Dibook Easy è la piattaforma digitale per usare i libri di testo giunti scuola. Con Dibook Easy puoi sfogliare la versione digitale dei tuoi libri, usare la versione accessibile con caratteri modificabili, ascoltarli con la sintesi vocale o usare le versioni tradotte in diverse lingue. Ma anche guardare i video, ascoltare le canzoni, fare esercizi interattivi e usare tutte le risorse digitali collegate. Con Dibook Easy puoi prendere appunti, scrivere, disegnare, inserire note, allegare immagini, file audio o video, cercare contenuti e molto altro. Come si attiva il tuo libro di testo su Dibook Easy? Registrati su Giunti Scuola, vai nella tua area personale e inserisci i dati della tua scuola e la classe. Dibook Easy riconoscerà automaticamente i tuoi libri di testo, le guide e tutti i materiali collegati al libro, sbloccandoli tutti. Successivamente ti basterà andare su Dibook Easy, accedere con le tue credenziali e iniziare ad esplorare i tuoi contenuti. Vuoi utilizzare i tuoi libri anche offline? È semplicissimo! Ti basterà scaricare la app adatta al tuo dispositivo e accedere con le tue credenziali. Troverai i tuoi libri di testo pronti per essere usati quando e dove vuoi. E adesso continua a scoprire tutto quello che puoi fare con il Dibook Easy.